l'invito, uno perché conoscevo la manifestazione e insomma è molto seguita e organizzata benissimo, due perché il tema si sposava bene con quello che era l'argomento di cui mi sono occupata per gli ultimi due anni, in realtà da una vita che mi occupo di corpi, però per scrivere il libro, insomma il tempo tecnico della scrittura è stata questa. Allora quello che avete visto erano i primi minuti di girato di Pump in Iron, film del 77, girato da George Butler, che introduce quella che George Butler prima aveva fatto un libro, un documentario sui corpi dei bodybuilder, lui era un fotografo, aveva fatto questo Pump in Iron, prima era appunto un libro di 220 pagine dove raccontava i corpi dei bodybuilder tramite delle fotografie, poi mi venne in mente appunto di farne una versione cinematografica e per raccontare quelli che erano i cento giorni precedenti alla preparazione del mister Olimpia del 75, che poi è quello che andremo a vedere dove parteciperà Schwarzenegger. Schwarzenegger in realtà proveniva, era il favorito di quella edizione, aveva vinto i precedenti cinque mister Olimpia, prima ancora era stato a vent'anni il mister Universo, per cui era un vincente, lui lo sapeva di essere vincente, e l'amico perché poi si trasferisce, Schwarzenegger è austriaco, si trasferisce a vent'anni in America, insieme a Giorgio, a Columbo, Franco Columbo, sardo, piccoletto, sembrano un po' la coppia a Danny DeVito e nel film I gemelli e in questa tra l'altro sono rimasti grandi amici per molto tempo loro due. Allora, introdurre queste scene dove Franco Columbo e Schwarzenegger sono alla sbarra stanno facendo un gran plié, seguendo la maestra, non così malaccio è l'allure e il portamento di Schwarzenegger un po' più terrigno invece rimane Columbo che insomma si aggrappa più che altro alla sbarra lo vediamo anche che aggrappandosi con il pollice opponibile, è una cosa che non si dovrebbe fare a danza la danza si appoggia alla mano perché la sbarra è un punto di appoggio ma non di sostegno e introdurre l'argomento Pump in Iron, quindi quelle che dovevano essere i 100 giorni di preparazione dei più grandi bodybuilder che poi avrebbero partecipato alla Mister Olimpia con un girato di danza è quantomeno stridente, è quantomeno crea contrasto dice perché? In realtà questi qui sono veramente i primi minuti poi avete visto scorrono le scritte del testo per cui non è ancora iniziato ed è un intro, un intro che ci permette però di riflettere su come il bodybuilder in questo caso deve imparare non soltanto a fare qualcosa ma il come fare qualcosa quello che stanno facendo è imparare e Schwarzenegger davvero prendeva lezioni di danza classica per imparare il gesto, l'armonia, il posing che sono questi movimenti legati che fanno durante la propria esibizione servono proprio a mettere insieme una coreografia che loro portano sono due minuti, oltre ad esserci questa grande pedana dove vengono messi insieme i bodybuilder e quindi si valutano la diversa muscolarità mettendoli a confronto poi ognuno ha un paio di minuti dove si esibisce in quella che è appunto una coreografia coreografia di pose ed è danza, ed è danza perché la danza non fa niente altro che appunto passare da un movimento all'altro non c'è statico, c'è una traslazione quello che stanno imparando in questo caso è proprio articolare le varie posizioni e quindi inserire l'elemento di grazia quindi quanto più di leggerezza possibile proprio in quella che dovrebbe essere una manifestazione della potenza ora, voi pensate al corpo dei bodybuilder come un corpo volumetricamente espanso ipertrofico quindi stiamo mostrando l'esterno, i muscoli ma è un corpo che appunto usa il movimento per la sua costruzione ma quello che va a mostrare in scena è il gesto tra gesto e azione c'è tutta una veramente differenza abissale tra quella che è la motivazione perché per esibire un gesto, un gesto è vuoto, un gesto è esteticamente bello, è perfetto ma è svuotato di quella violenza che il corpo muscoloso potrebbe suggerire è una sorta di Agamben parla di potenza che rimane nell'atto e proprio la potenza di un gesto è la possibilità di non passare a quest'atto quindi di rimanere intrappolata nella forma ed è quello che fanno quando mettono in scena il gesto esibito dove non è, il bodybuilder non è un sollevatore di pesi e quindi quando lui esercita su di sé durante gli allenamenti e quindi fa un esercizio fisico muscolare non serve per poi mostrare il muscolo, non serve per mostrare la forza ma è qualcosa che viene messa in esercizio per poi essere svuotata da questa forza e mostrare soltanto il carapace, quello che c'è fuori, l'estetica e in questo c'è tanto di grazia se volete perché appunto svuota un corpo pesante e nel momento in cui lo vai a svuotare non è soltanto come nell'opinione comune che parla di qualcosa di superficiale, di vuoto, di vanesio, il bodybuilder ma c'è una dimensione che se volete è legata all'armonia è legata alla compiutezza del movimento è legata all'estetica, è legata all'arte è legata alle sculture classiche perché lì stiamo riprendendo evidentemente tutta quella che era l'armonia il bisogno di simmetria, di proporzioni Schwarzenegger era proprio il perfetto crea proprio il modello eccelso di quella che è l'epoca d'oro del bodybuilder poi ci saranno delle diverse deformazioni e arriveremo ad avere dei corpi molto più mostruosi ma lui è l'età d'oro, l'età d'oro del bodybuilder quando venne fatto il Pump in Iron e quindi dicevo, era prima un libro fotografico per passare alla versione cinematografica Butler, che era appunto inizialmente un fotografo aveva bisogno di fare un passaggio fondamentale che era quello dello storytelling perché raccontare un evento cinematografico voleva dire creare, lavorare sulla drammaturgia se no il pubblico si annoia e quindi accanto a quello che era il vincente quello che veniva dato, insomma avrebbe probabilmente vinto lui ha vinto lui ovviamente sesta vittoria di Schwarzenegger dopodiché si ritirerà dove aveva bisogno di un antagonista cioè a qualcuno che facesse mantenere l'immagine del vincente da una parte di, che era Arnold ma che insomma gli creasse almeno una parvenza di contrapposizione e gli mise insieme ovviamente non era Franco Columbo perché è troppo basso e non avrebbe mai vinto cioè è un'altra tipologia di bodybuilder lavora su un'altra categoria soprattutto e aveva bisogno invece di un altro un altro ultracorpo fuori scala perché sceglie Lou Ferrigno se voi vi ricordate era il famoso Hulk in scena quindi dopo farà Hulk che era più giovane di cinque anni quindi corpo più fresco più grosso, più alto Schwarzenegger è 1,88 Ferrigno era 1,96 più massoso e più svantaggiato dalla vita in questo gli metteva davanti un ragazzone quindi che aveva la sete aveva la fame arrivava dal basso Schwarzenegger era un vincente era proprio solare era il dio Apollo lui sorrideva mostrava i dentoni con il taglio in mezzo della fortuna tra gli incisivi e gli mette davanti in contrapposizione c'è questo Lou Ferrigno che arriva da Brooklyn vive con la mamma e il papà lavora in un operaio metallurgico si allena nelle palestre non nelle palestre quelle che sono sulla spiaggia di Schwarzenegger sono le palestre quelle basse di Brooklyn quindi con i neon la sera lui va lì e si allena in silenzio non c'è quel glamour che crea invece Schwarzenegger quando entra nel modo del bodybuilder Schwarzenegger diventa emblema del bodybuilder vincente lo toglie un po' dal ghetto toglie le palestre dal ghetto ne fa una dimensione vincente più borghese diciamo piace di più è un po' come quando entra in scena l'etichetta della Coca-Cola Schwarzenegger era l'etichetta che dava togli l'etichetta e rimane una bottiglietta di acqua frizzante colorata lui voleva ritirarsi non voleva partecipare a questo ultimo mister Olimpia viene convinto da questo film perché lui in realtà voleva darsi al cinema voleva fare Hollywood quando gli chiesero ma tu sei sicuro di voler passare e di diventare perché aveva fatto un film era Ercole in città Ercole a New York forse con un pessimo inglese perché ancora parlava malissimo era andato male il film ma lui voleva fare cinema perché aveva vinto nei vari i più grandi appunto il mister Olimpia il mister Universo ma lui aspirava ad avere un pubblico maggiore che non avrebbe potuto avere giustamente con quello che era il mondo del bodybuilder che rimane comunque una nicchia se vuoi allargata perché Schwarzenegger lo poppizza un po' e quindi allarga lo fa diventare glamour lo fa diventare Schwarzenegger bodybuilder è già Hollywood fa già una versione di sé hollywoodiana prima di ancora di diventare una star di Hollywood e voleva quindi non voleva partecipare viene convinto da Butler e dai fratelli Wilder che sono invece coloro che l'hanno sponsorizzato i Wilder erano quelli che hanno creato il settore bodybuilder allargandolo al grande pubblico e avevano bisogno di Schwarzenegger se lui si fosse ritirato il bodybuilder sarebbe ritornato nella nicchia e loro avevano bisogno di allargare la scala del desiderio delle persone che poi è quello che è stato fatto hanno americanizzato tutto la nostra condizione di persone che vanno a fare fitness non è nient'altro che è una dimensione ribassata di questa cosa qui della spinta alla perfezione e quindi noi andiamo in palestra facciamo gag facciamo spinning e tonifichiamo il corpo lo rendiamo perfettibile in forme molto più ribassate perché c'è stato qualcuno che ci ha fatto vedere che da una parte si poteva fare non diventa un modello lui per il grande pubblico ma diventa un punto di riferimento con una anche così in maniera benevola viene vista non viene visto perché non è mostruoso perché rimane nel bello perché rimane armonico e poi perché rimane bonaccione con questa faccia anche un po' da sia bonaccione che esteticamente vincente quando partecipano quindi c'era lui Ferrigno invece tutto il contrario ombroso lavora appunto in silenzio è sordo dalla nascita e questo gli dà una grande un grande impronta anche identitaria perché è molto più insicuro racconta Lu Ferrigno che anche da bambino veniva bullizzato per questo suo problema aveva degli apparecchi acustici molto evidenti i bambini lo sappiamo quando sai un elemento irregolare addosso ma non lo fanno apposta vedono la differenza e la differenza viene indicata poi il politicamente corretto ci ha portato un po' a smacchiare tutto ma i bambini sono sempre la prova del nove di quanto sia ipocrita poi siamo tutti belli siamo tutti però siamo tutti diversi che è una cosa diversa e non vanno non c'è bisogno di livellare per renderci tutti uniti e tutti uguali perché non lo siamo e quindi Lu Ferrigno era il diverso era il diverso che in più c'era e viene rappresentato anche nel nel film viene allenato dal papà e quindi in questo ancora una volta dà un'immagine in contrapposizione a Schwarzenegger che era sicuro di sé autonomo indipendente vicino invece alla ragazzone che insicuro non aveva vinto ancora niente allenato dal papà quindi anche così stava poi quanto fosse un espediente caricaturale del film che serviva appunto a Butler per dare questa contrapposizione tra protagonista e antagonista lui poi si smarcherà un po' dirà Lu Ferrigno che in realtà non era proprio così però è vero che anche nelle palestre insomma veniva allenato veniva seguito dal padre il padre che era un poliziotto e poi allenava il figlio per cui questa era la contrapposizione la contrapposizione tra il sole e la luna il sole e il buio attorno più che la luna perché Ferrigno rimane rimaneva un po' così segue in realtà abbiamo detto i primi i primi minuti di girato sono le immagini dei port de bras di come seguire lo spot della linea cioè dove guardare mentre fa il movimento e Sparza Negra ha una sua grazia una cosa che molti bodybuilder ancora adesso quando vanno a fare le pose devono imparare anche l'ultimo non so se voi avete mai seguito i Mister Olimpia ma negli ultimi che ho visto io anche quest'anno erano comunque c'era questa legazione coreografata e bisogna passare attraverso la traslazione del gesto che è qualcosa appunto eccoli qui per esempio sono messi a confronto i confronti vengono fatti con delle pose che sono standard doppio bicipite frontale doppio bicipite laterale insomma ci sono tutti vince ovviamente questa edizione ultima Schwarzenegger secondo Sergio Nubre che avete visto prima e terzo Luferrigno povero quindi rimane nella sua immagine di sconfitto si riprenderà come dire una piccola rivincita quando al di fuori del bodybuilder Ferrigno verrà scelto ci sarà per fare appunto il mostro verde Hulk partecipa alla selezione anche non so dove mettermi forse proviamo partecipa alla selezione anche Schwarzenegger che viene invece eliminato dal casting perché è troppo basso e quindi se la gioca male la scena della insomma il concetto di leggerezza ci collega quindi alla danza alla danza che è il corpo ecco il Sergio Loubret è il corpo invece in opposizione la grazia e la leggerezza inizia con la taglione la taglione è una ballerina ottocentesca che piccolina era bassina e quindi aveva bisogno di un giorno le viene in mente che intingendo le scarpette morbide la danza nel gesso si può indurire la mascherina che la parte davanti e salire sulle punte salendo sulle punte crea proprio quello che è un principio di leggerezza di poca adesione al suolo e quindi di corpo che si solleva dalle umane bassezze la scena quello che noi andiamo a guardare quando andiamo a teatro in generale è un evento straordinario qualcosa che non potremmo vedere nella realtà in tutti i giorni camminando quel tipo di teatralità quel tipo di espressione e anche di visione che noi abbiamo a disposizione quando andiamo a teatro è un'impostazione piuttosto classica del teatro come qualcosa che ti fa una cornice intorno e ti crea un evento straordinario poi in realtà ci sarà tutto un teatro contemporaneo che lavora invece sull'urbanizzazione della scena sul mettere insieme le cose però qui siamo ancora alla creazione di uno spazio eletto dove appunto il corpo della ballerina è un corpo che cerca un'armonia un'evanescenza una smaterializzazione del corpo questo tentativo di smaterializzare il corpo nella ballerina e quindi di lavorare su un oltracorpo per sottrazione in minore creandone un calone maggiore a partire proprio dalla condizione del minore è qualcosa che vede dei passaggi o almeno io ho rintracciato dei passaggi perché la Taglioni è per esempio la prima ballerina che salendo sulle punte indosserà il Degas il Degas il tutu classico avete presente il gondellone di tulle il corpetto stretto 1832 e all'Opera di Paris si presenta la Taglioni esce in scena con questo vestito che ha una nuvola che smaterializza il corpo avvolge il corpo della Taglioni che evidentemente era un corpo sì leggero delicato ma non corrisponde alla nostra idea di magrezza o di bellezza eterea perché era un corpo ottocentesco non ci sono grandi foto della Taglioni se non mezzo busto ed è un busto ottocentesco con le spalle un po' scoscese e la scollatura un po' aperta sulle spalle le altre sono dei disegni ed è emblematico anche questo quando la Taglioni viene rappresentata a figura intera è attraverso un disegno ora lavorare su un disegno probabilmente in quel momento era dovuto anche a limiti tecnici però mi ha fatto pensare quanto fosse il disegno è quanto più astratto c'è per rappresentare il corpo cioè cerchi di creare una immagine e quindi lo smaterializzi e quindi davano della Taglioni ballerina la rappresentazione del suo corpo attraverso ciò che c'è di più immateriale ovvero appunto un disegno un suo disegno però appunto la leggerezza inizia lì inizia avvolgendo un corpo ottocentesco quindi materico un corpo tridimensionale comunque non c'era la concezione di lavorare sulla non so non si sa cosa mangiasse la Taglione se ci fosse una dieta ma non credo che ci fosse una contezza di questo tipo probabilmente stava ligia perché mangiava in maniera femminile ma non certo per tonificare la muscolatura alleggerire l'ultracorpo lavorare di tonificazione non in questo senso e quindi lavora su un'idea di leggerezza che avvolge quindi la leggerezza è qualcosa che sta attorno al corpo che orbita orbita attorno al corpo i passaggi successivi i passaggi per creare una maggiore leggerezza sarà questo approssimarsi di una condizione di leggerezza che man mano andranno ad intaccare il corpo ad inserirsi nel corpo dopo la Taglione abbiamo la ballerina novecentesca per eccellenza e poi la ballerina l'etuale in assoluto anche questa rappresenta un po' l'emblema così come è stato Schwarzenegger per per il bodybuilding che è Carla Fracci Carla Fracci è un approssimarsi della leggerezza al corpo stesso è vero che utilizza tutta quella che è l'armamentario romantico della ballerina tradizionale quindi il Degas e quindi le punte eccetera ma ha un corpo che inizia anche molto milanese ma non soltanto per di origine ma proprio come applombe in modo di vivere in modo di vivere il corpo le milanesi sono un po' così un po' un po' secche hanno questa immagine un po' urbana e quindi Carla Fracci è il passaggio successivo cioè mette insieme sia l'armamentario di quello che erano appunto le scarpette tutti i vestiti la nuvola di Tulle ma crea un corpo ha un corpo più in linea con l'idea di leggerezza man mano questa idea di leggerezza da Carla Fracci poi il 2000 quindi facciamo un salto di un altro secolo arriviamo a Silvi Guillem che abbiamo visto prima e che ha un corpo dove veramente l'ultra lei Silvi Guillem anzitutto è un è un ultracorpo che lavora su un'idea di leggerezza completamente diversa una leggerezza quasi iperbolica ricorda un po' a parte adesso questa foto è seduta però vi assicuro che lei è alta con un fisico iperdotato potete vedere i piedi però lavora proprio su una potenza quasi come se fosse un innesto tra un macchinario dinamicamente perfetto e un essere un extraterrestre che arriva da un altro pianeta quindi ha altre proporzioni altre dinamiche lavora su un altro immaginario ecco questo tipo di leggerezza si riconduce ad un secolo diverso proprio perché rimanda alle macchine ultraleggere alle macchine aerodinamiche alle macchine che sfondano la barriera del suono agli aerei è veramente ultradinamica a lei proprio perché c'è questa spinta alla leggerezza che noi la stiamo attraversando sui corpi ma è qualcosa che ci appartiene a livello sociale culturale tutto il 2000 è un tentativo di smaterializzare e quindi di creare una materia che sia più sottile possibile basta vedere c'è l'idea la nostra moda dello slim o l'ultrapiatto il nostro ultrapiatto è il telefonino che deve essere più leggero possibile il nostro computer deve essere air perché se no non ci piace il blocchettone di il mattone da portarci dietro c'è una idea di leggerezza che si sposa con la sottigliezza ed è qualcosa che ci appartiene non soltanto appunto nella nella categoria danza ma è proprio sfondando tutto il nostro tutta la nostra cultura è sfrangiata su questa idea non ce ne accorgiamo neanche più perché si la vediamo sui corpi ma è qualcosa che ci appartiene proprio a livello visivo a livello di qualità dell'immagine ma non dell'immagine degli schermi che è vero appiattiscono e creano un'immagine sottile ma proprio nel modo di pensare la vita la vita è più bella più riuscita se è sottile perché è leggera le cose pesanti ci danno fastidio che peso no anche quando ci parla non so magari io adesso sto dicendo ma che pesante lo utilizziamo in termini dispregiativi quasi per arrivare appunto queste immagini che poi ho caldeggiato per attraversare il corpo e sfondare un po' il percorso della narrazione dal corpo materico e ipertrofico al corpo ultrasottile arrivando ai corpi smaterializzati che sono i corpi delle ragazzine su tiktok io ho passato queste su o su instagram ho passato un buon anno e mezzo in compagnia di questi queste ragazzine che raccontavano il proprio corpo anzitutto vedete per esempio ecco l'uso del balletto sul social fa l'opposto di quello che dovrebbe essere il concetto del balletto cioè la ballerina professionista cosa fa? allena il proprio corpo e lo trascende perché nel momento in cui esibisce il corpo lo utilizza per veicolare quella che è un'arte quindi c'è qualcosa di poroso il corpo rimane un po' in trasparenza deve essere talmente addestrato ed educato ed esercitato da mostrare qualcosa che non è più così tecnicamente visibile quello che ti vado a far vedere non è la tecnica perché se ci pensate la ballena passa tutta la vita davanti alla sbarra ma in scena non è mai alla sbarra quindi fa qualcosa e non mostra quello mostra un risultato quindi trascende l'esperienza tecnica per mostrare qualcos'altro anche con la scrittura si fa così si scrive c'è una tecnica c'è sempre questa diatriba tecnica da una parte che però può imbrigliare e quindi togliere quella che è l'estro in realtà la tecnica è un elemento fondamentale per permetterti di liberare quella che è la tua capacità espressiva e se la sai bene e la sai gestire come nella danza sei libero di muoverti se rimani imbrigliato nella tecnica è perché non hai talmente padronanza di quella gestualità di permetterti di utilizzare un vocabolario senza dover continuamente pensare questa è una A questa è una B questa è una C questa è una D quindi la fluidità della comunicazione avviene nel momento in cui tu l'hai talmente introiettata gestita masticata e la utilizzi in maniera diversa le ragazzine di TikTok cosa fanno? mostrano l'A B C D ma perché lo mostrano? lo mostrano per mostrare il corpo cioè fanno il lavoro contrario prendono il carosello delle lettere giusta apposte come scusa per farti vedere che corpo hanno e il corpo che hanno è un corpo ultra sottile è la marca che ci piace è la XS che ci piace è quella che va in negozi in Corea per esempio sono modelli ancora più stretti seguivo una e diceva la nostra XS in Corea non è quella io entro e mi guardo io sono una 42 le ridono dietro perché non è quella quindi c'è questa idea di di vincente attraverso un corpo sottile e queste sono ragazze che si fotografano c'è tutta una deriva di quelle che io poi chiamo i corpi ultra sottili smerciati sui social che si incastrano con il problema dei DCA i DCA sono appunto i disturbi del comportamento alimentare e quindi passano per anoressia vigoressia l'altra scusate anoressia bulimia i disordini insomma di budgeting e va bene e cosa fanno queste ragazzine esibiscono la propria malattia ed esibiscono il proprio corpo nel momento in cui quindi evidentemente tu stai male creandone un lato pop vincente creando una forma di identità su questo corpo malato quindi ed è molto suadente se volete in un certo senso in maniera malsana perché ti porta a guardare quei video che fanno e sono dei video molto standardizzati per esempio c'è quello con il sondino al naso quindi ragazzine che sono evidentemente o in ospedale o a casa hanno il sondino con la sacca della nutrizione ogni tanto fanno delle live dove parlano e ogni tanto invece mettono una musichetta e loro dondolano su queste gambe improbabili e fanno il loro ballettino funereo perché c'è sempre un lambire un corpo che è tra il sottile e il morto cioè è sempre lavorare su questa su questa doppia valenza e di quanto poi in realtà sia proprio quella soglia quell'interstizio che sta tra il vivo e il morto tra il corpo sano il corpo vincente perché è felice di essere così leggero e il corpo che sta evidentemente deferendo ecco questa distinzione sottile ultra sottile tra il dimagrimento e il deperimento è qualcosa che viene mostrato ed esibito io quando lo racconto nel libro non do mai una adesso anche qui ne sto parlando ma non do una valenza morale non è questo il mio compio di dire ah dovrebbero quelli sono problemi di carattere anzitutto personale perché io sono per il libero arbitrio ponendo e ammettendo che esista un'idea di libero arbitrio che potiamo utilizzare come qualcosa che noi scegliamo per noi stessi e che non ci siano quindi delle implicazioni per cui il nostro pensiero non è mai libero non è mai indipendente da quelli che sono i concetti che ci appartengono tutti ma ponendo che ci sia appunto una dimensione di libero arbitrio ognuno per me può decidere di fare del proprio corpo e della propria vita se non va a intaccare i corpi degli altri ma è proprio vero che poi non andiamo ad intaccare i corpi degli altri nel momento in cui mettiamo in campo una decisione sul nostro corpo e insomma perché dove inizia e dove finisce l'autonomia del mio corpo è molto incerta come condizione perché il nostro corpo non appartiene soltanto a noi c'è sempre una dimensione sociale del corpo e quindi c'è una rete per cui come l'effetto farfalla un gesto è una cosa che viene fatta da un corpo per esempio popolare che ne so la cantante che si mostra in mutande che dice quel gesto lì lei dice sì io posso fare del mio corpo quello che voglio la body positive ma quella cosa lì va a incidere sugli altri riverbera sui vari corpi ho sporato con l'orario pensavo e quindi è molto difficile lavorare sul concetto di indipendenza e appunto di scegliere la gestione dei propri corpi e le ragazzine fanno questo creano un corpo wired un corpo disturbato e disturbante e in questo creano un'onda d'urto un'onda d'urto su tutti noi che non vuol dire dare una visione morale della cosa ma rendersi conto che esiste una rete di corpi che si sono collegati non soltanto perché il mio corpo è collegato al mio circolo familiare di persone che ho intorno ma proprio perché va ad allargarsi alla società e quindi il racconto che fa Ultracorpi che è il saggio che è uscito un mese fa un paio di mesi fa per minimo un fax faccio proprio questo percorso dal corpo ultra grosso al corpo smaterializzato che è quello che appunto abbiamo visto sui social e che ancora diventa un corpo vincente per assurdità laddove va a smaterializzarsi il corpo non esiste più ed è talmente vincente proprio perché non esiste più non esiste più Grazie a tutti.